Il corpo è buono, torna per il voto. La nostra dignità non bastava. Torni a schermire la nostra famiglia, a sminuire il sacrificio di mio padre. Folle da gente, non sono io il tuo nemico. Quale dei retraditori ti manda? Forse... Burgred... Non prendo ordini da nessun sovrano e non mi inchinerò a te. Sarai squigliato come gli altri! Ti farò a pezzi! Se sti scomplico, la vendetta sarà mia! Uttermi! Uttermi! Non c'è, non c'è! Hai avuto l'ertura! Ehi! Gno! 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 Alzatevi! Taggimi i vapori! Quale Seidra mi fa molti piccoli! Sono lei e molti piccoli! Che trucco fa in questo? Hai combattuto bene! Per resistere cos'è! Ma ora non mi tratterò più! Se dovrò strapparti gli occhi, lo farò! Udono! 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 A fiona! She calls me Pheed! She calls me Pheed! Udono! No, no, no. Spirito che ti torna un atta di ripasso. Ah!